buongiorno e buona domenica visto che per me oggi è domenica sono le sette e mezzo del mattino e sono tutti a letto, io invece mi sono alzata, ho fatto piano piano e così ora mi metto a preparare i pancake per la colazione, Matteino sarà contentissimo quando li vedrà, allora ho aperto le secche delle persiane qui in cucina e c'è il sole e non c'è neanche punto vento, speriamo che non si alzi oggi nel pomeriggio perché dobbiamo sistemare giù a tutti i costi, mi sa che qualcuno si ha alzato, ho visto un'ombra dietro la porta a vetri e dobbiamo fare giù perché la settimana scorsa con il tempo che è stato non abbiamo fatto niente, proprio una cippa lippa di nulla, sì che oggi bisogna andare a sistemare tutto, a tagliare il prato e sì per noi si preannuncia una domenica tutta in casa e va bene e niente, ora vi dico le dosi che utilizzo io per i pancake, non mi ricordo ve l'ho prese perché sono talmente tanti anni che utilizzo questa ricetta qui che non mi ricordo più e occorrono 250 ml di latte poi un uovo, 200 g di farina, io utilizzo quella 00, poi 65 g di zucchero e poi ci vuole un cucchiaino aspettate, un cucchiaino di lievito per dolci, io aromatizzo generalmente con una fialettina di aroma alla vaniglia e mezza al limone e niente, un pochino di burro che bisogna far sciogliere nella pappadella così non si attaccano e niente, ci mettiamo a preparare i pancake. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ho appena finito di impastare il pane voglio fare delle prove perché già in tante mi avete chiesto la ricetta del pane quella a lunga lievitazione ma io in quel video ho detto che ho fatto la lievitazione di 12 ore invece che di 24 sicché non mi sento di darvi quella ricetta lì anche se il pane era comunque buono magari faccio delle prove io ora ho impastato ho messo 600 grammi di farina ho messo 300 grammi di farina integrale io tendenzialmente li faccio più integrali i panni perché a noi piacciono di più poi ho messo 200 grammi di semola perché secondo me la semola lo fa durare anche più a lungo non lo so forse mi sbaglio chi se ne intende magari se me lo dice così non sbaglio più però è un pensiero che ho io e poi ho messo ho messo 100 grammi di farina zero voglio comprare domani se riesco ma non lo so la farina di farro e vorrei sostituire la farina zero nel pane con la farina di farro ho messo di base mi preparo 250 millilitri di acqua però ne ho messo anche un pochino di più lì dovete vedere voi al momento che impastate la farina quanta acqua richiede io ve l'ho detto di base me ne preparo 250 millilitri e poi vedo ho messo un cucchiaino di sale e poi diciamo a occhio un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un solo grammo di lievito di birra fresco ora l'ho messo in frigorifero domani mattina allora l'ho impastato che facciamo le otto e mezzo sicché dovrebbe lievitare fino a domani mattina alle otto e mezzo ma io magari domani mattina quando mi alzo alle cinque e mezzo lo tiro fuori e lo faccio stare fino alle otto e mezzo a temperatura ambiente penso che sia meglio ho letto in qualche vlog che comunque va levato un pochino prima dal frigorifero sicché io lo faccio stare dalle cinque e mezzo alle otto e mezzo e poi vedo cuocio e poi semmai domani vi aggiorno ora finisco di asciugare qui così finisco di sistemare qui in cucina e poi mi dedico alla zona notte perché devo sempre fare tutto 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 e poi mi dedico alla zona notte Grazie a tutti. 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 Vedo un attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ho acceso il forno. Ho aspettato che fosse caldo. Ho infornato il pane. e poi sono andato. a metter su una lavatrice. non pensando al forno. acceso a un certo punto. ma ma... non c'è luce. io no, 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 no. tranquillo. mi devi guardare. intorno. e poi, posso togliamo, e ho trovato. è un po' della Garnier, con la macchina, con la macchina, e per mattina. e la faccio la minestra, con un po' di olio. poi, con la macchina, con la macchina, e la macchina, con la macchina, con la macchina, con la macchina, con la macchina, e, come sempre, vi mando, un grande bacio, un grande bacio, e vi do appuntamento, al prossimo video, e, e,